Era il primo test ufficiale, quello di Cascia, contro il Benevento, squadra appena retrocessa dalla Serie A e Teramo ha disputato davvero una buona gara, sia nel primo che nel secondo tempo. 23 giocatori utilizzati, sensazioni positive, mister? Sensazioni molto positive, ma questo è il calcio, io lo chiamo, molti lo chiamano il calcio d'agosto, io lo chiamo il calcio finto, nel senso che i risultati non sono mai veritieri, quindi questo, hai pareggiato con la squadra a prima parte della Serie A, non deve montarci la testa, anzi dobbiamo ancora di più lavorare, tre volte alla settimana, non più dopo la seduta, ma facciamo tre di seduta, perché bisogna aumentare la quantità di lavoro. Ho schierato due formazioni diverse nel primo tempo e nel secondo tempo, 23 calciatori, una mista, non una squadra titolare o viceversa, ma due squadre miste, perché mentalmente non ho ancora i titolari. Primo tempo con squadra in difesa completamente esperta, poi sei under distribuiti tra centrocampi e attacco, eppure non si è sentita la differenza con una squadra dalla caratura in teoria superiore. Sì, loro hanno giocato, penso con la formazione migliore che potevano avere, hanno giocato per 60 minuti sempre con gli stessi calciatori, giustamente hanno dieci giorni in più di lavoro rispetto a noi, noi siamo ancora in fase di costruzione, è giusto non schierare ancora la formazione che potrebbe essere tornata la prima di campionato, e voglio dare spazio a tutti di partire dall'inizio per poter dare la possibilità a tutti di dimostrare il loro valore. Dove sei fiducioso e dove pensi invece che occorre migliorare, dopo questi primi due testi, il primo in famiglia, questo invece col Benevento? Sono fiducioso su come siamo stati in campo oggi, dopo una settimana di lavoro, e questo sono contento. Bisogna migliorare, specialmente con i più giovani, a volte si fanno delle ingenuità che oggi si vedevano veramente tantissimo, perché loro erano molto bravi, e dobbiamo eliminare queste ingenuità sui giovani, altrimenti... ... ... ... ... ... ... ...